Gli accedi del robo di Chiesole, in arrivo il commissario di finale, comune di finale, trazione di Vodna. Avanti, vecchio. I commissari di finale, e si prepara invece la compagnia Arcele di Borre Mediano d'Occidente, comune di Mastasini. Ecco, scendono e con il stadio di finale, e salgono al Sagrato, gli accedi di Torre Mediano d'Occidente, comune di Mastasini.